Ma intanto io sono rimasto sconcertato così come oggi sulla stampa Armando Spataro, un magistrato, adesso ex magistrato, di straordinario valore, impegnato in tutta la sua vita di magistrato contro la criminalità organizzata, contro il terrorismo. Ecco, così come Spataro, anch'io sono rimasto sconcertato dalle affermazioni di Di Matteo, anche membro del CSM, fatte in una trasmissione televisiva. Dice Spataro, così non si rende onore alle istituzioni. Ma al di là della, diciamo, grammatica istituzionale, anch'io penso che Di Matteo meriti non solo rispetto e grande considerazione, Io l'ho per tutti i magistrati antimafia, anche se certe modalità del suo agire da magistrato, secondo me, hanno a volte troppo, diciamo, dato spazio alla spettacolarizzazione dell'azione del magistrato. Ieri una persona come Rosanna Scopelliti, figlia del giudice ammazzato, giudice Scopelliti ammazzato dalle mafie, in un'intervista dice che i magistrati debbono praticare sobrietà e umiltà, che è quello che dice anche Spataro. Ma qui c'è un nodo politico, è evidente. Molteni dice, ma perché Bonafede non viene in Parlamento? Bene, è quello che il Partito Democratico ha chiesto, abbiamo detto venga in Parlamento a partire dalla commissione antimafia. Ma io so che Bonafede aveva già dato la settimana scorsa la disponibilità a venire in antimafia e credo che sia utilissimo, indispensabile, che questo avvenga nel più breve tempo possibile. Ma il nodo politico è, ma lo Stato, due anni fa, quando il governo di cui Molteni faceva parte, non nominò Di Matteo, perché la nomina del capo del DAP avviene al Consiglio dei Ministri, su proposta del guardasigilli. Due anni fa, quando non nominò Di Matteo, e oggi, con la circolare del DAP, che era una circolare di monitoraggio, chiedeva gli ultrasettantenni malati, se gravemente malati, quali erano, quanti erano nelle carceri italiane, e da lì c'è stato l'appiglio da parte di molti mafiosi per fare domanda ai domiciliari, la domanda è, ma lo Stato abbassa la guardia contro la mafia? Beh, francamente, io a questa domanda do una risposta categorica. Non è così. Non è così. Buonafede ha chiarito i motivi per i quali due anni fa non fu nominato Di Matteo. No, aspetti, però, questi non li abbiamo capiti. No, scusi, 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 Verini. L'ha chiarito in che modo, scusi? Buonafede. Dov'è il chiarimento? Sì, le dichiarazioni di Bonafede, il quale ha detto, c'è stato tra di noi un grosso fraintendimento. Io gli ho proposto due opzioni, pensando, forse, dice Bonafede, io accolgo le parole del Ministro. Dice, poi, nel frattempo io avevo scelto per una di queste un'altra soluzione, Basentini, votata dal Consiglio dei Ministri del precedente governo, e a quel punto Di Matteo, avendo una sola opzione, ha ritenuto di non accettarla. No, però, allora, c'è un elemento, però, dobbiamo dare un elemento fattuale ulteriore. In realtà, quella nomina, l'altra nomina, cioè quella agli affari penali, non era a disposizione di Bonafede, del Ministro, perché quella nomina era stata fatta proprio da Andrea Orlando, ad aprile. Lui, Bonafede gli fece, guardi... Eh no, però ci sono dei fatti, era una carica occupata, lo nota, lo stesso fatto quotidiano. La punta di essere... Io ho letto le dichiarazioni del Ministro, che poi rifarà, immagino, in antimafia e in Parlamento. Non poteva offrire due cose, perché una non era a disposizione, cioè questo piccolo... Cioè, una nomina era a disposizione sua e l'altra no, l'altra no, perché era occupata da Donatella Donati. Lui gli ha composto due incarichi, un incarico di punta di diamante nella lotta antimafia o affari penali, se non era disponibile, non lo so, ma in ogni caso, questa era l'offerta che ha detto Bonafede avergli fatto, o il DAP. Nel frattempo, tra l'altro aggiungo, Bonafede era già a conoscenza, questo è un alto fatto, perché Bonafede incontra Di Matteo il 18 di giugno, ma il 9 giugno il GOM, che è il gruppo operativo della Polizia Penitenziaria, aveva non intercettato, ma aveva ascoltato nel carcere dell'Aquila conversazioni, urlanzi, delle mafiosi al 41 bis preoccupati per eventuale nomina di Di Matteo, ma questa era già dal 9 giugno, e non era già a conoscenza, esatto. La difesa era di Bonafede, infatti, lui dice già lo sapevo, allora non l'avrei offerto. Però, no, no, aspetti, è soltanto per far capire anche... Evidente, però... Sì, però il punto è che cos'è che gli fa cambiare idea, lo chiedo, prego, prego, prego Verini. Ecco, no, mi voglio finire, però, due anni fa, se Di Matteo avesse avuto sospetti di una indulgenza nei confronti dei mafiosi, ma per quale motivo aspetta due anni, non solo a dirlo e non in un talk show, ma a prendere delle iniziative giudiziarie. E seconda cosa, perché questa cosa avviene quando, una settimana fa, il ministro mette due magistrati antimafia di grande valore, penso a Roberto Tartaglia, peraltro molto vicino come collaboratore a Di Matteo, e a Dino Petralia, sulla cui nomina tutte le forze politiche, che il mondo giudiziario ha espresso giudizi favorevoli. Due segnali molto antimafia, anzi, se posso dire, se c'è una critica da fare, che in due ruoli, capo e vice, forse la politica carceraria non è solo la mafia, ma insomma il segnale è molto chiaro, quindi non c'è nessun sospetto. Sì, mi sembra di capire, vado da Lirio Abate, benissimo, è chiaro, mi sembra di capire che Verini dice, intanto sbagliata la sede, che un magistrato membro del CSM vada in televisione a raccontare questa cosa, questa sua versione, ad accusare in questo modo il ministro della giustizia, sul merito per il PD, diciamo, ha chiarito la versione di Bonafede, che dice che ci ha ripensato, che ha offerto due cose, che comunque certamente non è stato cedimento alla mafia.